Va molto freddo su Megabeans a segno! Cominciamo! La prova per Adam è raggiungere il centro. Un attimo! Boo! Cosa vuol dire boo? Ah, non ne ho idea! Davvero, non lo so! Vediamo che succede. Sembra proprio la mia navicella. Penso che si fermerà sul cerchio bianco, quindi solo 5 punti. Oh, poverino! È partita la musica triste. Siamo all'ultimo tiro! Sì, ci siamo! Sembra un ottimo tiro! Sì, infatti sono 25 punti! Bel tiro, bravo Adam! Wow, ancora non ci credo che Jake ha diviso la vittoria con Bella! Questo è lo spirito sportivo dei Mighty Beans, amico mio! Che gioco! Ci rivediamo presto, cari fan! Al prossimo Mighty Beans Game! Ciao, ciao! Ciao, ciao!